Vale circa 2 milioni di euro il tesoro segreto del boss Cosimo Rochira, 35 anni di Francavilla Fontana, noto alle forze dell'ordine per una fitta serie di reati, tra cui quelli dell'omicidio di Angelo Putignano, avvenuto nel 2007 a San Giorgio Ionico, per cui è stato condannato il 7 ottobre 2010 in secondo grado a 14 anni di carcere. La sera dopo fu vittima di una spedizione punitiva, mentre all'estiva uno dei negozi della catena Ipercasa San Michele Salentino, in cui rimase vittima il 42enne Vincenzo della Corte. Dopo quell'episodio i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Brindisi e della Compagnia di Francavilla Fontana hanno posto sotto sequestro preventivo, ben immobili e immobili, oltre ad una società riconducibile a Cosimo Rochira e il suo nucleo familiare, composto da otto persone, tra moglie, cognati e familiari stretti, in applicazione della normativa antimafia. Dopo essere stato dichiarato fallito nel mese di febbraio del 2004, Rochira, grazie ad attività criminali, sarebbe riuscito ad accumulare ingenti disponibilità economiche e finanziarie, che poi era investito attraverso un'oculata in lungimirante strategie di attività commerciali e o nell'acquisto di beni patrimoniali, avvalendosi della complicità di interposte persone facenti parte, ma non solo, al proprio nucleo familiare. Gli investigatori guidati, dalla Maggiore Alessandro Colella e dal Tenente Simone Clemente, sotto la regia del PM Raffaele Casto, hanno accertato una netta sproporzione tra l'elevato tenore di vita dei soggetti e di redditi reali. Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono due appartamenti, un compendio aziendale costituito da due supermercati di proprietà della società Plurimarket SRL, quote sociali e magazzini della stessa società, cinque e due vetture di media e grossa cilindrata e due autocarri. L'intero patrimonio sequestrato è stato affidato da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Brindisi, anche al fine di assicurare il regolare proseguo delle attività imprenditoriali.